buongiorno due parole sulla personalità dipendente generalmente i pazienti con dipendenza affettiva sono consapevoli degli effetti devastanti che il partner ha nella loro vita ma non riescono ad astenersi dalla relazione questo è il problema chi soffre di dipendenza affettiva si sente inadeguato e non degno d'amore e vive costantemente con il terrore di essere abbandonato dal partner la paura dell'abbandono induce al tentativo di controllare l'altro con comportamenti compiacenti di estrema disponibilità con la speranza di rendere la relazione stabile il dipendente affettivo si sacrifica e mette al centro i bisogni del partner ma questo comportamento è dettato soltanto dalla paura di non poter essere degni d'amore infatti la scarsa autostima spinge la persona che soffre di dipendenza affettiva a leggere la scarsa disponibilità dell'altro non come una informazione che riguarda l'altro come ad esempio è un arcisiste egocentrico ma questa informazione viene letta come un'informazione su di sé e cioè non mi ama perché io non vado bene il risultato è un aumento della sacrificalità e quindi un continuo colpevolizzarsi per l'andamento insoddisfacente della relazione pur di scongiurare il tentativo e il temuto abbandono queste persone sono disposte a fare cose spiacevoli degradanti ad esempio si fanno sfruttare economicamente si fanno sfruttare sessualmente tollerano l'infedeltà e nei casi estremi tollerano anche la violenza ma la dipendenza affettiva non è appannaggio solo del disturbo dipendente di personalità anche i pazienti con disturbo borderline di personalità hanno delle serie difficoltà a stare da soli e adottano comportamenti dipendenti sono afflitti da pensieri di fallimento costante mostrano scarsa autostima nelle relazioni mostrano un attaccamento ansioso dovuto alla paura del rifiuto e dell'abbandono in psicoterapia il primo obiettivo consiste nell'affrontare le esperienze precoci di abbandono quindi esperienze di trascuratezza fisica ed emotiva maltrattamenti possono esserci abusi che generalmente sono alla base della convinzione di non valere nulla e di non essere degni di essere amati grazie a questo lavoro si creano le basi perché i pazienti possano da un lato formare relazioni affettive basate sulla reciprocità nelle quali sentirsi finalmente amati e accettati e quindi mantenendo un'immagine positiva di sé senza dipendere dall'ambirazione dell'altro come farebbe tipicamente un narcisista per poi ristabilizzare quindi la loro autostima ma in particolare in psicoterapia è necessario capire quali siano le ragioni sottostanti alla dipendenza la dipendenza affonda le sue radici dell'infanzia cioè nel rapporto con chi si è preso cura di noi coloro che diventano affettivamente dipendenti probabilmente da piccoli hanno ricevuto il messaggio di non essere degni d'amore solitamente i genitori di questi adulti dipendenti sono stati iper protettivi e frustravano il loro bisogno di gioco e di spontaneità si sostituivano ai figli nelle scelte infatti esiste una stretta connessione tra la tipologia di attaccamento e la personalità coloro che soffrono di disagi connessi alla sfera della dipendenza affettiva presentano uno stile di attaccamento insicuro e molto spesso questo stile di tipo dipendente oppure può essere evitante o disorganizzato la scelta da parte del soggetto dipendente di un partner con determinate caratteristiche non è del tutto casuale il dipendente ha spesso una percezione di sé come una persona non meritevole d'amore e di conseguenza di conseguenza tenderà a scegliere inconsapevolmente dei partner problematici cioè dei partner evitanti anaffettivi che andranno appunto a confermare l'immagine negativa che il dipendente ha di sé la dipendenza affettiva quindi non è un fenomeno che riguarda una sola persona ma è una dinamica due il percorso di psicoterapia può aiutare la persona a superare le condizioni di sofferenza legate al fatto che la coppia è vissuta come indispensabile necessaria la propria esistenza il trattamento della dipendenza affettiva mira da un lato a comprendere il proprio funzionamento al fine di capire quale sia la motivazione sottostante alla dipendenza ma anche mira a modificare i legami di attaccamento insicuro e quindi a rielaborare le esperienze negative per permettere poi l'instaurarsi di legami significativi soddisfacenti un altro obiettivo della terapia è quello di sviluppare l'assertività in modo che la persona possa manifestare i propri bisogni senza timore e qui si va a migliorare l'autostima quindi la sicurezza in se stessi lavorando appunto sui propri schemi mentali per uscire dalla dipendenza un passo fondamentale è quello di diventare consapevoli delle strategie manipolative messe in atto da un partner tipicamente narcisista o manipolatore e può capitare a tutti può capitare a tutti di rimanere affascinati da una persona narcisista nessuno si salva il dipendente effettivo però ha una vocazione particolare a diventare succube del narcisista precipitando poi in un rapporto tossico e logorante per approfondire meglio questo tema vi rimando ad una playlist dedicata alla dipendenza affettiva e ad un'altra playlist dedicata al narcisismo che troverete nel mio canale youtube inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedervi una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti buona visione